allora buongiorno buongiorno diciamo perché stiamo ridendo perché nel frattempo che stiamo lanciando la diretta o comunque la registrazione nel frattempo ho sentito un un notifica un suono di notifica dal computer dell'onadisi che è stato rimosso su facebook delle sue posizioni sicuramente antiputtiniane buongiorno è un paghi è un plugin di chrome che ti dice quando viene rimosso dagli amici non lo sapevo vedi non facebook non te lo dice vedi c'è un non funziona benissimo bisogna sapere interpretare i dati però per chi ha dimestichezza è un plugin inventato e brevettato da te immagino no no aperto di rimozioni da facebook visto che ogni giorno perderai di followers per citare una seriaccia leggendaria con vabbè allora amici con una gran perdo contatti con una grande facilità non li rimuovo io la mancia capita che rimuovo qualcuno io perché come tutti a un certo punto ti esasperi però la maggior parte delle volte vengo rimosso senza così senza neanche un intervento come per dirmi oh ma sei proprio stronzo di cancello sarebbe vabbè ok ok ne prendo atto ne prendo atto ne prendo atto e questo ne prendo atto che è un'espressione che in questa settimana ha avuto moltissimo seguito nel senso che ne abbiamo sentiti come fosse una specie di mantra ne abbiamo sentite diverse 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 edizioni ed è uno dei dei temi disordinatamente che affronteremo oggi siamo a shit parade bisogna sempre ricordarlo che un'emissione una bella emissione emissione di deep interland il magazine di abbiamo mangiato un vocabolario stamattina sì 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 esattamente come come spesso mi accade pane e devoto oli e allora facciamo la scaletta così poi mandiamo la sigla e ci troviamo sto pensiero se non poi veniamo veniamo sì allora oggi vi intratterremo disordinatamente su i temi della settimana tra cui il già citato prendo atto prendo atto di un noto ex ministro della repubblica italiana eh per fortuna diciamo rimosso con disonore auto rimosso auto rimosso sì con disonore totale idiozia di quest'uomo va bene e poi naturalmente non possiamo non fare un cenno alle elezioni francesi di cui abbiamo fino alla settimana scuola abbiamo completamente dimenticato di fare cenno ma c'è si è tenuto già il primo turno primo turno delle elezioni sono risultati molto interessanti ma sì adesso ne faremo qualche cenno e poi tu ci teni moltissimo dalla tua posizione eh diciamo così eh critica a fare un saluto a Alessandro Borghese e eh ho letto che naturalmente devo dire non depone molto a favore della posizione di Borghese ha avuto pure una specie di endorsement come dicono quelli che non sa che non conoscono l'italiano hanno avuto avuto pure un endorsement da parte di un'altra eminenza della dell'imprenditoria mondiale tale Flavio Briatore perché le grandi menti pensano in modo simile ma adesso non sai così severo nei confronti del povero Alessandro Borghese nel senso che comunque solamente perché il figlio di Barbara Boucher è l'unica sua qualità oggettiva comunque se cosa di buono quest'uomo la madre però andiamo avanti sei crudele come sempre ma adesso mandiamo la sigla e poi mi dici tu da dove vuoi cominciare vuoi cominciare da dove vuoi tu a prenderne atto oppure vogliamo cominciare a fare un quadro va bene allora intanto sigla shit parade engage torniamo a noi torniamo sul ponte di comando dell'enterprise e allora cerchiamo di riordinare di mettere insieme regroup in the middle le nostre idee come si diceva una volta release and get back release and get back va bene a parte sciocchezze nerd allora direi che ci teniamo la Francia perché va un po raccontata la situazione e quindi non so la settimana scorsa anzi questa settimana che si è appena conclusa che è la settimana che ci porta alla Santa Pasqua evento che tu al quale tu sicuramente sei molto molto legato con i perdoni sono emozionatissimo ti vedo già in processione con gli incappucciati di qualche confraternita palagianella ho già la statua qui c'è già la statua sulle spalle allora eh torniamo un po cerchiamo di tornare serie anche se come i nostri ascoltatori sanno è molto complicato ehm in questa settimana c'è stata questa questa intervista un po insistente ma insomma giustamente insistente di una giornalista io non mi ricordo quale testata devo essere sincero non me lo ricordo neanche io adesso mi so viene ok ha un ex ministro della repubblica ministro degli interni famoso soprattutto per le sue immagini mh enogastronomiche sì food blogger food blogger che eh c'ha dovuto nel pieno della sua attività il ministro dell'interno ministro dell'interno vicepresidente del consiglio ha pensato bene di passare un'estate in un noto lido stabilimento balneare della riviera mh facendosi riprendere con cocktail mentre diciamo così eh si adagiava sul sulle procacità di una intrattenitrice di questo stabilimento balneare abbiamo capito che stiamo parlando di Matteo Salvini che ha la domanda sul caso Cucchi sul del quale abbiamo già parlato la settimana scorsa con la tua forte presa di posizione nei confronti di chi in questi anni comunque ha ha espresso giudizi abbastanza pesanti sul caso del gerometra romano che è stato sostanzialmente crepato di botte eh la giornalista ha chiesto a Salvini una una considerazione e Salvini ha in maniera un po' così anche eh con di legge ha iniziato a dire prendo atto prendo atto prendo atto e non so se abbiamo un supporto filmato di questa cosa qui sì ci abbiamo un supporto filmato mandiamo il video la settimana l'è stata dedicata alla sentenza Cucchi da Ilaria Cucchi proprio in questa piazza cosa ne pensi? prendo atto buon lavoro a tutti che vuol dire prendo atto? ci dica qualcosa? prendo atto sono due parole prendo atto ok? lei non aveva messo in dubbio comunque questo risultato diciamo finale prendo atto buona giornata lei e buon lavoro ha capito perché non è morto di droga prendo atto buona giornata e buon lavoro lei fa sempre comizi più che domanda e mi incuriosisce grazie buona fortuna e io sono sempre comunque ogni tipo di droga contro 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 però è stata fatta giustizia ed è una prima volta nella storia prendo atto prendo atto prendo atto prendo atto cinque si scusa con Ilaria Cucchi perché cosa? per le sue comunque idee per le sue alla fine cioè mi devo scusare per le mie idee? no tante volte io sono contro ogni tipo di droga mi spiace se lei invece è a favore di qualche tipo di droga però ha messo in dubbio diciamo la sua battaglia no 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 io sono contro la droga senza se e senza ma e quando c'è di mezzo un morto c'è solo da pregare e di prendere atto non commento quando c'è di mezzo un morto le mie e le sue idee vengono dopo detto questo la droga uccide i ragazzi di oggi che dopo il lockdown si strafanno di farmaci e di psicofarmaci sì ma stiamo parlando di una condanna del corpo comunque di qualcosa che appartiene al corpo dello Stato di agenti che si sono diciamo riuscirei di una cosa molto e se sono stati condannati voglio dire che hanno sbagliato cosa devo commentare scusi? e si ferma no se vuole saltello se vuole saltello no è parco di parole però adesso ok ecco avete visto questa cosa che ha tra il così diciamo è grottesco è grottesco questa ripetizione ossessiva di questa cosa prendo atto prendo atto e poi non c'è tutta la giornalista gli chiede se rimane fermo nella sua posizione e inizia a fare cretino perché non c'è proprio bisogno di essere così cretino oltre a ripetere se vuole saltello se vuole saltello quindi vai ti ascolto ma io sono senza parole sono senza parole mi capita raramente di essere senza parole però in questo caso come abbiamo già esaurito la settimana scorsa non ci sono più dubbi su quello che è successo non ci sono più distinguo da fare ci sono delle persone che hanno preso delle posizioni chiare in un momento anni fa quando ancora l'indagine era rincorso ci sono delle persone che hanno preso delle posizioni chiare come i citati Salvini la russa Giovanardi ma centro-destra in generale tutte quelle realtà afferenti alle forze dell'ordine con qualche sparuta voce dissonante hanno preso delle posizioni chiare di condanna di garanzia nei confronti dell'operato delle forze dell'ordine di condanna nei confronti di una persona che fondamentalmente ok sì aveva dei problemi ma problemi per i quali non è prevista la prima di morte in nessuno stato credo forse in Myanmar non lo so Germania non so qualche stato fondamentalista non lo so nel momento in cui ti puoi in una situazione in una posizione del genere dopodiché vieni completamente sbugiardato non da un'inchiesta giornalistica che di questi tempi ormai purtroppo chiunque può avvelenare dicendo che non sono fonti attendibili tutte queste tecniche qui di disinformazione ma da una sentenza nel momento in cui vieni sbugiardato da una sentenza definitiva in terzo grado di giudizio ripetiamo abbiamo un ordinamento giudiziario garantista che aspetta tanto per emettere una sentenza definitiva abbiamo aspettato 13 anni tre sentenze hai avuto torto marcio e tu che fai continui ad avere questo atteggiamento sprezzante dopo che hai calunniato la famiglia calunniato la vittima io non un politico chiunque abbia visto questo video e abbia un minimo di dimestichezza con l'etichetta politica non dico quella italiana perché degradata negli ultimi anni abbiamo visto cioè abbiamo leader politici che vengono considerati grandi leader figure internazionali come Giorgia Meloni che vabbè ok non ne voglio parlare chiunque abbia dimestichezza con l'etichetta politica internazionale non dico i britannici che sai britannici loro sono molto però anche gli stessi americani gli americani hanno un atteggiamento un approccio alla politica dal punto di vista delle opinioni pubbliche espresse nei media anche abbastanza aggressivo ma una cosa del genere non la vedi una persona che si deve una posizione del genere si dimette una persona che fa una cosa del genere di fronte a un giornalista questa mancanza totale di rispetto nei confronti delle sentenze delle vittime è uno a cui il giorno dopo il suo partito chiede le dimissioni ovunque ovunque negli stati democratici ok capisco che loro sono fan della Russia quindi Putin può fare quello che vuole e ha avuto anche spesso atteggiamenti simili ma chi cioè a loro non importa perché lì comanda è lo azzardo ok ma in un paese democratico una situazione del genere non sarebbe tollerata e qui abbiamo un ex ministro dell'interno uno che ha avuto un potere incredibile uno che si candida a governare di nuovo nel 2023 le prossime elezioni saranno nel 2023 non mi ricordo non sto ci danno a casa uno che si candida a governare di nuovo perché il centrodestra potrebbe tranquillamente vincere le prossime elezioni se il centrosinistra continua a dormire però per dire che fa che si comporta in questo modo che non ha nessun tipo di rispetto verso la giustizia uno che da ministro dell'interno ok non scendiamo nei dettagli uno che ha fatto delle leggi agghiaccianti ne abbiamo già parlato del DL sicurezza che è una delle leggi peggiori sulla faccia della terra che non mostra alcun rispetto ma nessuna empatia cioè un ragazzo è stato ucciso una sentenza di hai colonnato la famiglia per anni una sentenza ti ha sbuggiato e tu continui imperterrito in questo argomento io sono veramente non lo so mi si gela il sangue vedere queste cose no è chiaro devo dire che insomma e poi una persona popolare e molti insomma popolare allora saprai che nelle prossime elezioni amministrative che si terranno adesso credo in primavera inoltrata ho letto che comunque non il nome Salvini non comparirà nei 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 luoghi ma era anche ora ma era anche ora perché sicuramente dopo la vicenda dopo la vicenda famosa lì insomma di cui abbiamo anche già parlato del del sindaco polacco che l'ha preso per il culo diciamo così l'imbarazzo per la posizione a favore di Putin le magliette le cose eccetera è naturale che abbia fatto un passo indietro per una questione di opportunità essenzialmente opportunità legata alla visibilità in questo momento non è non ha non è il momento di maggior favore per questa per questa persona per il resto abbiamo visto in questi anni ha inanellato una una serie di perle diciamo ha infilato una serie di perle di insomma di figure di merda meravigliose se le vediamo da un punto di vista da un altro punto di vista ognuna di queste perle sarebbe stata sufficiente per non solo chiedere le dimissioni e ottenerle speriamo ma insomma veramente dalle felpe al citofono a tutta una serie di considerazioni fatte anche in ambito europeo quando era ministro eccetera che comunque sono veramente cioè imbarazzanti io non sono non sono di quelli là che si esprime in not in my name però diciamo nel caso di Salvini essere comunque rappresentato in certi contesti europei perché naturalmente nazionali non non è quello il caso ma insomma veramente è una roba che mi imbarazza forse più di quando ero di quando c'era Berlusconi il presidente del consiglio insomma perché comunque veramente terribile io sono la cosa che mi lascia veramente a bocca aperta è vedere che ci sono persone che si sono identificate in questa in questa figura leadership per così tanti anni quindi in sostanza siamo d'accordo su questa cosa qui ed è difficile non essere d'accordo se c'è un minimo di di così insomma di coscienza civica o di senso di appartenenza e cittadinanza perché comunque certamente queste posizioni sono anche io credo che molti seguaci di di Salvini non possano così condividere questo tipo di atteggiamento sprezzante come hai detto tu nei confronti di tutta una situazione nella quale emerge una ricchissima figuraccia perché naturalmente è così alla fine è così allora sì però io penso che non voglio esprimere giudizi tranascianti è un fenomeno siamo qua per quello quindi quello sì è vero effettivamente siamo qua per quello se no stiamo giocando scusa se no faccio dell'altro quello dell'echismo è un fenomeno che in Italia mi ha sempre lasciato perplesso perché somiglia all'esperimento di Milgram l'esperimento di Milgram ce l'abbiamo presente gruppo di persone che venivano messe a fare del male senza saperlo all'altro focus l'altro gruppo dell'esperimento un gruppo di persone doveva fare del male a un altro gruppo e venivano motivate a farlo dicendo non è una tua responsabilità la responsabilità di chi ti sta dando l'ordine quindi sentiti libero di fare quello che vuoi perché non hai nessun tipo di conseguenza da aspettarti da un'azione negativa ovviamente era falso cioè l'esperimento era simulato il gruppo che faceva del male pensava di fare del male davvero dando delle scosse elettriche se non ricordo male non era vero l'altro gruppo fungeva di stare male dalle misurazioni simulate venne fuori che parte del gruppo 1 era stato capace di somministrare delle scosse elettriche totalmente forti a parte del gruppo 2 in alcuni casi da poter mettere a rischio la loro vita tutto questo perché c'era una figura leader che gli diceva non vi preoccupate vi sto dicendo che è giusto il leghismo in Italia ha funzionato allo stesso modo c'era questa persona che si è agganciata ai peggiori i peggiori istinti della popolazione e gli ha detto che era una cosa giusta ok questa è una cosa che funziona da sempre ok va bene potremmo parlare del nazismo in Germania prima della seconda guerra mondiale per dirne una però noi abbiamo avuto questo fenomeno questo fenomeno qui adesso negli ultimi quanti anni fa è stato cinque anni nell'epoca della cultura dell'informazione della diffusione dell'informazione in cui dovremmo avere tutti quanti accesso a uno scibile di conoscenze che dovrebbe renderci migliori più umani abbiamo avuto persone che semplicemente davano sfogo ai loro peggiori istinti semplicemente perché c'era un leader che li incarnava io mi ricordo quando Salvini c'era una polemica in cui ci fu un grave omicidio di mafia un pentito anzi il fratello di un collaboratore di giustizia collaboratore di giustizia a sua volta era stato ucciso un caso di cronaca abbastanza rilevante e lui come commento non era non fu il suo commento non scrisse aveva un post programmato sulla Nutella allora la notte ci fu questo problema ci fu questo evento di cronaca nera la mattina dopo si trovava un post tutti quanti stavano a parlare di questo fatto con le solite narrative sulla mafia condivisibili e lui postava la Nutella tutti quanti lo attaccarono tutti quanti lo attaccarono dicendo che era un Salvini muore un muore un collaboratore di giustizia e Salvini parla di Nutella e io dissi ragazzi non è un errore per il suo pubblico questo il suo pubblico di quella persona se ne fotte e anzi molti di loro diranno che hanno fatto bene ucciderlo perché i collaboratori di giustizia sono chi li ritiene degli ex mafiosi quindi sono persone che comunque non meritano rispetto chi non rispetta tra i loro la loro condizione di collaboratore di giustizia per motivi che non stiamo a analizzare qui perché sono da querela quindi e infatti i commenti sotto il posto di Salvini quando ci fu la risposta erano questi ma chi se ne frega di un mafioso ammazzato questo era il pubblico questo era l'elettorato della Lega in quel periodo ok quindi noi abbiamo avuto cioè vabbè niente ok vabbè vabbè ok 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 tutto chiaro la Nutella mi hai ricordato un altro di queste perle meravigliose di questa di questo di questo racconto negli ultimi anni vabbè ok allora facciamo un check così un check una sintesi della delle elezioni francesi mi ti racconto quello che ho desunto io grazie anche al nostro agente sotto copertura in Francia sì abbiamo un agente sotto copertura come tutte come tutte organizzazioni segrete abbiamo un agente sotto copertura a Parigi e allora per farla per farla cerco di essere breve il 24 si vota domenica 24 si vota per il secondo turno dell'elezione presidenziale in Francia e i candidati giunti al secondo turno sono il presidente attuale presidente uscente Emmanuel Macron e Marine Le Pen che insomma ha tolto diciamo durante la campagna elettorale il cognome dalla campagna si fa chiamare solente Marine e va bene ed sono gli stessi candidati che si sono contesi la presenza della Repubblica cinque anni fa nel 2017 ok con un risultato cinque anni fa decisamente più consistente in favore di Macron rispetto a quello che potrebbe essere il risultato di questa elezione del 24 del 24 aprile infatti sembra che la distanza tra i due candidati sia inferiore rispetto a quella di cinque anni fa e comunque sembra gli ultimi sondaggi che non c'è nessuno dei sondaggi pubblici di questi giorni in cui c'è l'opzione Le Pen presidente della Repubblica va detto per chi conosce un po' la situazione in Francia o comunque in un minimo di cosa costituzionale della Repubblica francese che in Francia si vota per le politiche subito dopo l'elezione del presidente della Repubblica e succede in qualche caso che il presidente della Repubblica sia di una parte politica e la maggioranza in Parlamento sia della parte politica diciamo così opposta se vogliamo e questa cosa qua produce quella cosa che per noi italiani è abbastanza astrusa nel senso che comunque non è mai successo è quella cosa che si chiama la coabitazione cioè c'è il presidente che poi è capo del governo in Francia e un governo della parte opposta politica quindi comunque là si tratta un po' di ovviamente mediare ed è quello che potrebbe capitare a sto giro perché i partiti tradizionali in Francia selezionano hanno fatto abbastanza pena quindi comunque in questo caso quando si andrà a votare per le politiche quindi per il rinnovo del Parlamento si potrebbe effettivamente verificare questa condizione per cui c'è il presidente Macron che è comunque insomma il presidente uscente di una parte politica e un Parlamento con una composizione abbastanza varia rispetto alla presidenza della Repubblica il terzo di questo giro qua i personaggi diciamo di queste elezioni al primo turno sono stati ovviamente i due candidati che si giocano la presidenza della Repubblica come abbiamo detto che terranno un dibattito pubblico in televisione il 20 aprile e poi c'era questo personaggio curiosissimo Eric Zemmur che è stato definito dal nostro agente segreto in Francia come una specie di casa pound alfabetizzato in giacca e cravatta così mi è stato raccontato vedo che annuisci quindi comunque diciamo e poi c'era l'altro candidato che si era candidato pure cinque anni fa ma non raggiunse diciamo la posizione che ha raggiunto a sto giro che è Melanchon che è l'esponente diciamo di una sinistra che è andata comunque al voto un po' frammentata cosa invece quella che noi italiani conosciamo abbastanza bene e quindi adesso siccome Melanchon è andato abbastanza vicino credo che abbia per pochi punti percentuali non sia riuscito a così ad arrivare al ballottaggio naturalmente quella di sarà il bacino quel 20% di Melanchon sarà il bacino da cui attingerà Macron per vincere le elezioni fondamentalmente questo è un po' il quadro della situazione quindi diciamo non ci dovrebbero essere rischi per la Francia anche se naturalmente c'è sempre da considerare che per una serie di eventi storici imprevisti imprevedibili come può essere la Brexit come può essere stata le elezioni di Trump hai visto mai che anche in piena guerra succedano cose per cui alla fine ci troviamo anche in Francia un esempio di questi bachi della storia per cui non so insomma questo è un po' Melanchon è stato subito dal primo turno Melanchon è stato chiarissimo ha detto testualmente neanche un voto deve andare alle penne cioè proprio ha detto alla sua questo già sta a indicare che tipo di sinistra radicale è quella di Melanchon la sinistra radicale italiana la sinistra italiana tutta funziona sempre che vince che festeggia le vittorie altrui hanno festeggiato Tsipras hanno festeggiato Obama abbiamo visto come è andata a finire però per dire hanno festeggiato Biden quindi c'è questo c'è questo atteggiamento la sinistra italiana di festeggiare le vittorie delle sinistre estere però è anche vero che Melanchon ha un atteggiamento interessante che la sinistra italiana non riesce a condividere mai mai Melanchon è stato chiaro tra le penne e Macron io scelgo Macron non siamo allineati su tutto va bene ha delle politiche che non condivido anzi che combatto va bene le combatteremo in Parlamento ma non facciamo andare non facciamo andare a governo persone che hanno politiche anche peggiori e in più sono sono neonazisti fondamentalmente vabbè ok no vabbè più che questo va bene neonazisti forse è un po' un po' troppo però mi sono canforizzato mi sono canforizzato si stai canforizzando no però una cosa è vera nel senso comunque da quello che sembra la politica presidenziale della Le Pen potrebbe essere una politica da come ha annunciato lei anticipato lei molto sulla quale potrebbe molto investire sul referendum cioè quindi il popolo decide e questa cosa qua significerebbe un po' uno scavalcamento della dell'attività parlamentare cioè per me è una red flag ora scusami se quando un politico parla di utilizzo del referendum compulsivo massivo per me è già una red flag cioè significa abdicare al tuo ruolo cioè ti stanno eleggendo per il tuo programma devi applicare il programma non devi fare il referendum cioè ti stanno votando per un motivo se tu vuoi fare il referendum significa che non hai idee chiare significa che non vuoi fare politica la politica è governare la politica è decidere e mediare e trovare soluzioni no però comunque io credo che il senso sia facciamo governare la gente con 74G no? il populismo spicciolo appunto è quello la democrazia diretta la democrazia diretta che abbiamo visto gli esiti tristissimi che ha avuto il massimo il massimo punto di di così di successo con l'abolizione della povertà infatti sì sì io sono a favore del cittadinato siccome io non sono a favore del cittadinanza e vedo ci torniamo mo che parleremo di quel cazzo di quel simpaticone di borghese ne parleremo del cittadinanza però restiamo su se vai in giro non c'è più un povero nelle case non ci sono più i poveri perché è stata abolita non so se cose se l'hai letto ma è stata abolita la povertà non ti ricordi queste queste figure quasi mitologiche sul balcone con lo striscione che Di Maio e i suoi fossero una cozzaglia di scemi scemi però con la I che Di Maio fosse uno scemo e quella scena sul balcone fosse uno dei momenti più bassi della politica italiana come le corna di Berlusconi al Parlamento Europeo quelli scusami perdonami sono i momenti più alti della politica italiana le corna di Berlusconi sono il punto del proprio non lo so le corna di Berlusconi sono molto molto più dignitose di quella scena sul balcone che Di Maio e i suoi aspetta no te ne vorrei ricordare un'altra quella di quello striscione lunghissimo tutte le poltrone che tagliavano le poltrone perché avevano ridotto il numero di il partito dei tafazzi ci rendiamo conto che questi non torneranno in Parlamento mai per una legge fatta da loro cioè sono veramente gli imbecilli però la tua cittadinanza è stata una cosa di principio che condivido hai detto bene di principio di principio le applicazioni sono sempre qualcosa da problematizzare ma torniamo restiamo sulla Francia la cosa dicevo Melenchon a questo atteggiamento ha detto ok tra uno e l'altro io scelgo chiaramente Macron perché siamo più vicini nonostante differenze e il resto lo vedremo in Parlamento non andremo mai con la Le Pen la cosa terrificante della sinistra italiana rispetto a questo atteggiamento è che non fanno così la sinistra italiana è capace tranquilla la sinistra radicale di cui mi sono potuto chiamare membro fino a poco tempo fa poi poi no perché sinceramente anche basta a un certo punto sulla questione ucraina è stato proprio lo spartiacque finisci un concetto che sei dispersivo sei il dottor di vago sono il dottor di vago la sinistra italiana è capace di dire che la Meloni è un leader migliore di Letta la sinistra italiana è capace di fare queste cose qua è capace non riesce a leggere un dato che sia un dato reale Melenchon per esempio nel suo programma non parla mai di Nato proprio io ho letto tutto il programma di Melenchon non parla mai di Nato ho tradotto con un traduttore non so il francese poi non parla di uscita dall'Europa parla di revisioni dei trattati di libero scambio che è una cosa un po' diversa dall'essere anti-europeisti invece noi ci troviamo questo fenomeno questo gruppo di fenomeni da baraccone rosso-bruni che vengono a dire Melenchon ha vinto perché è antinato e anti-UE non capite un cazzo ragazzi non capite un cazzo cioè basta Melenchon è una versione di sinistra radicale moderno l'unico elemento un po' più ideologico del programma di Melenchon è l'uscita dal nucleare che è una cosa discutibile però quella c'è effettivamente l'unico elemento un po' più ideologico è quello per il resto Melenchon è uno che ha fatto discorsi di socialismo anche moderato in cui si parlava di reddito minimo fondamentalmente quali erano i punti di forza di come dire riduzione dei finanziamenti dei sussidi statali alle aziende che delocalizzano tutte queste cose qui che non sono cose sovietiche se un'azienda va a mettere le sedi fuori dal tuo territorio che la devi finanziare a fare? sono cose di cui si può discutere ma sono logiche stiamo parlando di stalinismo quindi questo era il programma di Melenchon era un programma di sinistra infatti Melenchon è stato il primo nella demografica 18-34 se avessero votato soltanto i millennial in Francia avrebbe vinto lui al primo turno questo perché? perché? perché sono politiche rivolte a una generazione che si ritrova senza avere una prospettiva di futuro perché non c'è lavoro i stipendi fanno schifo il costo della vita è troppo alto da loro come da noi da noi è peggio torniamo su Borghese tra un po' quindi ha semplicemente fatto un ragionamento di sinistra che non è in opposizione a una sinistra non è in totale come conflitto con una sinistra più centrista e più liberale l'ETTA che è un liberale propose una patrimoniale per la quota per la dote 18 per creare dei fondi per il sostegno allo studio dei 18 anni è una cosa discutibile discutiamone ma comunque una politica di sinistra perché è una patrimoniale la patrimoniale non significa che viene a prendere i soldi miei o due significa intervenire sui redditi sopra i 100.000 quindi la patrimoniale quello è che quindi parliamone 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 la prossima volta che se no poi parliamone perché sulla patrimoniale diciamo avrei qualcosa da dire perché tu sei ricco cosa vuoi non è vero non è assolutamente vero perché c'è il sangue blu ma che sangue blu smettila è anacquatissimo quindi voglio dire vabbè ok comunque sempre più blu del mio che invece ma non è blu assolutamente non è mai stato blu è verde come i vulcaniani come i vulcaniani quello sì se mi ferisco sanguino verde il scontact day l'altra volta però per di vogliamo discuterne quanto vuoi ma sono comunque politiche di sinistra Letta fa una proposta del genere la sinistra radicale muta dopodiché quando si tratta di andare alle elezioni i nemici politici sono quelli del PD se dovete imparare da melanchoni invece di prendere se volete fare i melanchoni italiani invece di prendere solo le cose che vi conviene che voi sono pure inventate tipo l'essere contrario alla Nato prendete il suo atteggiamento cioè il centrosinistra non è il nemico è una forza divergente con cui però bisogna mettere su un tavolo va bene però non vuoi no ok è stato chiarissimo comunque vediamo ne riparleremo probabilmente fra due settimane con gli esiti della presidenza dell'elezione della presidenza repubblica francese ricordando che comunque Macron è stato un presidente efficiente si non fare quella faccia perché non è stato un buon presidente un presidente comunque capace no io non ho visto non ho letto nessun dato particolarmente negativo su Macron a parte i disordini con i gilet gialli va bene ma quella roba lì ricordiamoci sappiamo chi è sta gente quindi non è che faccia ma lascia stare questa cosa qua tu devi vedere come the big picture devi vedere non è la cosa no no è così perché ricordati che i tuoi quelli che hanno fatto il reddito di cittadinanza a cui sei tanto legato i tuoi sono andati sono andati a esprimere solidità e il gilet jaune il gilet jaune a Parigi per poi pentirsi perché hai detto scusate abbiamo sbagliato quindi questa ma quando dico che di Mario è un c***o è quello intendo ma non puoi dirlo perché devi mettere un bip perché altrimenti ci parpassiamo i guai non mi querelare non mi querelare no però concludiamo la cosa così passiamo finalmente a passare a sfogare la tua ira anticapitalistica su Alessandro Borghese che in ogni caso in Francia vengono da presidenti da una sequenza di presidenti che hanno governato solamente per un mandato e quindi servirebbe siccome come forse alcuni di voi sapranno si è passato da settennato con una riforma costituzionale da settennato a Chirac una riforma costituzionale da settennato si è passato da quinquennato come fosse un sindaco diciamo così il sindaco di Francia come uno slogan come si usava una volta il sindaco d'Italia che qualcuno tira eh sì io so ma sta cosa qua si sente ogni tanto anche da noi il sindaco d'Italia però ancora un rinfaccio a Renziani ti ricorderò ti ricorderai che dopo l'ultimo Chirac che era naturalmente al finire della carriera politica c'è stato Sarkozy dopo Sarkozy c'è stato François Hollande che è stato un altro presidente che non ha lasciato il segno se non per farsi sgamare alla mattina presto con lo scuterone che andava a portare i cornetti alla fidanzatina con tanto di Premier Dam che lo aspettava a casa è stato beccato fatto una figura di merda mondiale dopodiché nulla ricordiamoci anche che all'epoca a un certo punto si doveva candidare alle presidenziali tale Dominique Strauss-Kahn questo non me lo ricordo beh Strauss-Kahn era il presidente del Fondo Monetario Internazionale che fu coinvolto in uno scandalo perché fu beccato in un hotel di New York che aveva diciamo così avuto atteggiamenti inappropriati insomma una cameriera dell'hotel te lo ricordi c'è anche un documentario su Netflix e tutta una serie di documentari in proposito vabbè chiudiamo questa parte qua e finalmente poi ne ritorneremo quando ci saranno finite le elezioni e vai ti lascio abbiamo citato due eventi che sono proprio il patriarcato mondiale vabbè ti lascio proprio la cucina pronta per cucinare qualche eh vedi ti lascio proprio la cucina pulita perché tu possa cucinare qualche il mago della carbonara io insolenza qualche insolenza sull'ottima chef Alessandro Borghese oggi abbiamo insultato praticamente chiunque no voglio giusto dire perché tu non lo sapevi che Barbara Boucher illustre mamma nonché protagonista dei film scollacciati degli anni 80 70-80 massimo rispetto assoluto no no niente da dire negli anni nel 67 girò un episodio fece era il protagonista di un episodio di Star Trek serie originale che è andato in onda era l'episodio 21 della stagione 2 interpretava ovviamente un'aliena di nome Kelinda con una diciamo una si usava in quella serie lì si usava in molti casi addobbare e diciamo vestire le protagonisti femminili sempre con abiti un po' diciamo succinti ecco perché poi si retoga anche alcune volte no no proprio succinti cioè le cose che lasciavano delle parti lasciavano delle parti della schiena scoperte insomma era una cosa abbastanza audace siamo nel 67 beh è sempre stata una serie audace ricordiamoci che c'è il primo bacio interaziale la storia della televisione sì 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 esattamente una cosa importante e quindi nulla chiudo dicendo che comunque solo per questo poi naturalmente la Boucher ha raccontato qualche dietro le quinte di tutte le volte che William Shatner le se le se praticamente e non sono stupito per niente di questa cosa no assolutamente tu pensa tu pensa tu pensa una cosa del genere oggi però c'è 60 anni fa una cosa del genere praticamente all'odio del giorno e quindi insomma oltre a diciamo non lesinare dettagli sul parrucchino di William Shatner che pare che fosse bene e beh sì vai 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 anzi vi lascio soli mi alzo e vi lascio ti lascio barba a busce donna bellissima sì sì certo c'hai anche la barba come barbero sì come borghese ma tu lo sai che mi eravamo confuso quando c'erano i capelli più lunghi in una gelateria di una nota località turistica sono stato confuso con borghese ti giuro però una volta all'aeroporto mi ero pure confuso con Lillo di Greg e Lillo cosa che poi mi ha fatto un po' mi ha fatto rimanere un po' male vabbè vai sei alto solo 20 centimetri di più e beh anche largo 20 centimetri 40 centimetri in meno vabbè vai quindi il discorso non è buono Alessandro Borghese è riuscito con una delle affermazioni che vanno molto di moda nel periodo preestivo ogni maledettissimo anno ovvero come fosse un film di Oliver Stone Any Given Sunday Any Given Sunday ogni maledetto anno arriviamo vicino maggio e inizia la narrativa in genere sempre veicolata da qualcuno di questi pseudo imprenditori italiani che non sai come che stanno lì ma in questo caso lo sappiamo secondo la quale i giovani non vogliono lavorare quindi Borghese questo è uscito col fatto che bisogna fare la gavetta non è necessario quando stai iniziando a lavorare essere pagati c'è bisogno anche che interveniamo su questo argomento c'è bisogno perché io ho detto che tu devi lavorare non c'è bisogno di essere pagati per lavorare no quello aspetta quello non si discute che è una sciocchezza però sul fatto che magari proprio i programmi proprio i programmi condotti da 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 Borghese questi insieme a tanti altri quelli suoi comunque hanno dato l'illusione a una generazione di pasticcioni in cucina cioè quelli di lettanti di poter comunque avere accesso a una a una carriera da da cuoco quindi insomma diciamo già già affermata come se fosse una cosa quasi naturale spasticci un po' in cucina essere uno chef perché tutti quanti si sentono più vicini alla cucina ai concorrenti dei reality che diventano comunque qualcuno diventano personaggi televisivi diventano personaggi che alla fine riescono a a cambiare la propria esistenza dal punto di vista specialmente economico quindi di fondo io non è che sia contrario alla sua alla sua alla sua cosa ma tu lo senti non solamente da Borghese lo senti anche da normalissimi imprenditori commercianti che dicono io non riesco a trovare personale perché la gente non vuole rinunciare al reddito di cittadinanza e qua torniamo al tema tanto caro a te e mi faccio chiudiamo il discorso allora partiamo con un presupposto fondamentale allora che le persone non vogliono lavorare il weekend è sacrosanto dire che bisogna dire che per fare carriera bisogna spaccarsi la schiena tutto il giorno è una stronzata capitalista fatta apposta per creare schiavi proprio per programmare la gente a comportarsi da serva quindi io personalmente essendo una pratica di vada venti anni lavoro più lavoro e più guadagno lavoro quando ho tempo lavoro anche nei weekend ma è anche vero che non ho mai messo o meglio quasi mai messo in condizione un cliente di chiamarmi sabato e domenica perché mi devi fare cose lo decido io se devo lavorare sabato e domenica non me lo devi dire tu tu non tu tu capo uno per dire ok due stiamo parlando di qualcuno come fai a imparare un mestiere in uno scenario come il nostro con le vecchie generazioni che non possono più permettersi di mantenere i figli come facevano prima quando facevano il garzone nella bottega e non venivano pagati tu tornavi a casa e stavi dai tuoi genitori adesso come fai se adesso più o meno i contratti la gente vuole tenerti in formazione fino a 35-40 anni più o meno e non puoi tornare a casa da mamma devi farti anche una vita come fai a pagarti l'affitto se ti pagano meno del costo della vita in cui ti trovi e quello è l'atteggiamento che c'è come fai a dire a qualcuno in questo scenario tu devi lavorare col minimo indispensabile perché devi imparare sì ok per quanto per quanto tempo quanti anni come faccio a sopravvivere intanto ma ci rendiamo conto che il prezzo della vita e gli affitti sono aumentati in una maniera vertiginosa negli ultimi anni il discorso che facciamo anche nell'ultimo episodio non conviene più vivere al sud perché una volta la vita costava meno adesso non costa più o meno perché? perché il mercato immobiliare è impazzito ci sono affitti ci sono persone persone che ti danno dei compensi che costano meno di un affitto mensile meno e le bollette e la spesa e tutto e internet che internet serve maledizione non è una comodità internet è una necessità di questo sì ormai è come l'acqua e la luce non c'è niente da fare ok ci siamo capiti e questo discorso già è sbagliato a prescindere poi se me lo viene a dire uno che nella vita non ha mai dovuto lavorare cioè tua madre ha recitato in Star Trek tuo padre è un imprenditore e anche in un James Bond e anche in un James Bond cioè tua madre era un personaggio dello spettacolo che poi nell'ambiente aveva un botto di contatti cioè questo iniziava a fare food blogger e già la gente li correva dietro per farsi sponsorizzare va bene io non sono contrario non è che posso prendermi con qualcuno perché è nato ricco beato lui si godesse la vita sono contento e spero che sia felice fino a cent'anni ricco e produca un sacco di parassiti come lui felici quanto lui ma non deve venire a raffare la paternale a chi invece nasce da una famiglia di operai e si deve fare un culo così perché a casa non ci sono i soldi ma non credo che fosse rivolto non so non credo che fosse rivolto vabbè ok niente ok dai forse mi sto sbagliando no 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 impossibile non ti sbagli mai tu a chi arriva è rivolto ai ragazzi che non hanno che non hanno voglia di lavorare a poco che chiedono stipendi dignitosi dal day one sì è giusto così le persone devono avere uno stipendio dignitoso dal giorno uno se una persona lavora deve essere deve essere messa in condizioni di vivere del proprio lavoro l'idea che la famiglia sia un ammortizzatore sociale è una cosa nata nel berlusconismo ed è abberrante la famiglia non è un ammortizzatore sociale tu non devi lavorare e poi tornare a casa e quindi essere pagato poco perché vivi con i tuoi non paghi l'affitto e ti fa da mangiare tua mamma no nei momenti in cui inizia a lavorare è in una repubblica basata sul lavoro che sta scritto in costituzione credo ci hanno fatto anche un partito quindi voglio dire in una repubblica basata sul lavoro uno quando lavora deve essere messo in condizioni di sopravvivere di vivere dignitosamente del proprio lavoro altrimenti non ha senso lo stato come l'abbiamo concepito e questa gente viene a fare paternali poi gli endorsement che arrivano da briatore uno che nella vita non ha mai compuso niente l'unico successo che ha avuto nella sua vita è stato scoprire Schumacher tutto il resto sono state speculazioni questa gente vuole insegnare come si campa a noi altri che veniamo dal nulla e ci facciamo un mazzo così per arrampicarci nella scala sociale che non ha ascensori perché sono rotti perché se nasci povero rimani povero in Italia questo è io su quello non c'è più il sogno italiano il sogno non c'è più così perché è mai esistito poi io ho letto un'altra chef stellata che non ricordo il nome non è famosa non è famosissima però comunque è un ristorante stellato che è stata capace di rilasciare un'intervista in cui diceva nei giovani non c'è più fame quindi è il momento di indurla vabbè vabbè ma tu non puoi fare così cioè sarà stata una cosa la puoi fare io non possono scrivere queste cose non possono dire queste cose loro ma ho capito ma che ne sai che tu l'hai sentita con le tue orecchie perché io non mi fido neanche come hanno riportato le cose ah ok ma sarà stata colpa del giornalista no no non dico quello non dico quello ti faccio anche presente ma questo è un tema che tratteremo un'altra volta che c'è stata una food blogger australiana che è venuta in Italia se non ricordo mai ha fatto casino per la questione dei menu senza prezzo per le donne ah invece beh ti dici ma come il menu senza prezzo non cioè e naturalmente tutti quanti a dire un'opinione a dire così eccetera vabbè vedi vedi su queste cose qua non hai un'opinione perché sono cose del capitalismo perché ce l'ho un'opinione non la voglio esprimere e se un così l'anime peggio di il menu senza prezzo per le donne è una schifezza patriarcale cioè ma che palle non è vero vuole schifere perché a parte che tra noi ricchi anche io lo vorrei senza prezzo il menu chi se ne frega cioè poi quando arriva la cassa pago quello che è non è che lo voglio sapere prima ma non c'è non è quella questione che pago quello che voglio però il maschio mi chiedono chi se ne frega prenditi quello che ti serve il vostro lavoro non ha prezzo la food blog sono opinione ma non è quello il tema della cosa non uscire fuori tema perché è facile la differenza culturale l'emancipazione femminile passa anche dal fatto che la donna deve essere messa in condizione anche di poter dire oh pago io che vuoi invece non deve sapere i prezzi andasse alla casa e pagasse quello che è paga e basta perché devono essere perché questa questa food blogger ha avuto una reazione uterina vuoi dire questo no no sono stato fusticato per la parola l'uso della parola impropria uterina quindi non finiremo non finiremo mai questa vabbè comunque io su alcune di queste cose qua non sono d'accordo diciamo e me ne freggio come si diceva 80 anni fa quindi insomma non risposto cioè ribatti quello che no no vabbè su questa cosa qui continuo a sostenere che ci sia una forma di galanteria perché poi alle donne giustamente piace essere comunque corteggiate sedotte sì sì è così io mi dissocio da questa vabbè allora niente trovati un altro compagno di viaggio per questa avventura ho detto che mi dissocio nel senso non sono completamente d'accordo non non t'ho detto codica ecco anche a me piace essere corteggiato a me è ovvio a tutti a tutti piace essere corteggiato non è che abbia assolato femminile così così sviluppato vabbè comunque per le scarpe a parte lo shopping però vabbè ok ho detto un'altra cosa non commento non commento perché il mio commento sai quale sarebbe vabbè allora diciamo che abbiamo naturalmente sforato il tempo che ci avevamo prefissati di 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 già eh sì mi sa proprio di sì quindi non abbiamo neanche parlato del reddito di cittadinanza eh no vabbè ma quello per la puntata numero 150 parleremo del reddito di cittadinanza quindi ce ne mancano ancora 143 quindi insomma abbiamo tempo per ragione quando non ci sarà neanche più reddito di cittadinanza ci sarà ci sarà non lo toglieranno mai perché lo Stato sarà fallito grazie a questa iniziativa assurdissima del reddito di cittadinanza lo Stato sarà fallito a furia di dare sussidi alle aziende che non producono un cazzo ai tuoi amici Navigator che difendi i Navigator non erano inutili no vabbè una delle problematiche del reddito di cittadinanza è che è applicato male strutturalmente appunto non sono stati potenziati i centri per l'impiego i Navigator non servono a niente allora che di che cioè stiamo già parlando di questa cosa qua è una pochia il concetto di reddito di base io lo condivido e poi come è stato fatto dai cinque steri ma di quello stiamo parlando certo perché poi io sono d'accordo sul fatto che le persone non debbano rimanere sotto i ponti siamo d'accordo diamo una mano ma la domanda è vogliono essere aiutate vogliono essere messe in condizioni io penso di sì e si mettono in condizioni ma poi se ne approfittano non va bene se la cosa è strutturata in maniera tale che poi le persone se ne approfittino sinceramente un po' mi sembra una porcheria perché poi non penso che ci sia tutta questa mancanza di voglia di lavorare secondo me non ho detto questo non ho detto questo secondo me tra un reddito di cittadinanza tra un 500 euro al mese per non fare niente e un lavoro da 1000 euro al mese 1000 e più la gente sceglie tranquillamente il lavoro io sono convinto di questa cosa il problema è che bisogna devono esserci ma tu non è che vivi su un altro non è che vivi su Alfa Centauri o su su Kronos il pianeta di Klingon tu vivi qui nel sud Italia come ci vivo io lo sai che ci sono persone che non riescono che non vogliono rinunciare a questa cosa qua e quindi chiedono espressamente di essere impiegati senza nessun tipo di tutela senza nessun tipo di cose perché altrimenti dovrebbero perdere una garanzia sicura come fosse uno stipendio del reddito questa cosa qua ti è arrivata alle tue orecchie sì ma no sì ma niente è così non è una situazione diffusa come si pensa e poi il discorso del nero è anche ti posso ti posso ti posso dare come argomento attenuante ti posso dire che questa può essere certamente uno di quegli argomenti che vengono utilizzati al contrario cioè come se fossimo in Tenet film che io ti ho suggerito di vedere ma tu resisti e non lo vuoi vedere perché comunque è probabile che questo sia il racconto che si fanno degli imprenditori in certi settori per dire guardate che comunque alla fine sono stato costretto a pagare senza tutela in nero perché non ti sto dicendo che è tutto come dico io perché è così ti sto dicendo che sicuramente però c'è anche il caso di situazioni di persone che questa cosa qua la fanno tranquillamente e come quelli situazioni del sud Italia che non vogliono rinunciare alla cosa agricola dei contributi agricoli di essere nell'agricoltura e quindi non riescono non vogliono cambiare ma sai prendo i contributi per l'agricoltura e quindi non posso venire non posso risultare non posso fare queste cose qua si sentono non è che sono invenzioni mie che sono un per quanto riguarda il sommerso il sommerso è un problema da un punto di vista e dall'altro ma sul sommerso bisogna intervenire sul sommerso non è problema in reddito di cittadinanza il problema sono le persone che assumono il nero o le persone che hanno la possibilità di assumere il nero quella possibilità deve essere eliminata in qualche modo cioè il sommerso io sono d'accordo sono figurati anzi cioè io vabbè non faccio nero perché per una questione etica ma vabbè comunque non interessa a nessuno questa cosa qui allora salutiamo i nostri ascoltatori nel frattempo sappiamo che stanno aumentando settimana dopo settimana non ridere perché se lo vedo percepite questa permettete a ridere ma è così stanno aumentando e quindi continuate a seguirci leggete Deep Interland stateci vicino specialmente all'amico dell'Onadis che come vedete c'ha bisogno di di affetto c'ha bisogno di cure evidenti quindi stateci vicini e noi ci vediamo la settimana prossima con nuove strabilianti avventure e richiami alla serie alle serie di Star Trek soprattutto quindi salutiamo tutte le persone che abbiamo dileggiato oggi da Salvini Alessandro Borghese e non so non abbiamo parlato di Orsini non abbiamo parlato di Orsini perché siamo arrivati lunghi perché tu ti perdi mille chiacchiere sul collegio di Cittadinato sempre 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 saluti a tutti ci vediamo la settimana prossima Shit Parade Engage Grazie 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 Grazie.